Buonasera, siamo con Antonella Aprile, responsabile dell'Atono Augusta, che subito ci dirà intanto di cosa si tratta. Sì, l'Atono Augusta, intanto buongiorno a tutti, buonasera a tutti. L'Atono Augusta è una società di nuoto, di cui io sono il responsabile tecnico, il cui presidente è il signor Salvatore Aprile, nonché mio padre, di cui io faccio oggi le veci. La nostra è una realtà natatoria che esiste da diverso tempo ad Augusta e la rappresento in questo momento in quanto finalmente si giunge al meritato momento di queste gare nazionali di nuoto. Esatto, sabato 6 e domenica 7, sabato 6 di mattina, domenica 7 mattina e pomeriggio, ci saranno delle gare nazionali di nuoto, fondo e mezzo, fondo e mezzo fondo. Ma spiego un attimino a chi sta guardando questo video cosa vuol dire fare una gara nazionale, e perché scegliere di fare una gara nazionale ad Augusta, una cosa molto importante. E chi sono, chi saranno gli ospiti di questa gara anche, presumo che ci siano degli ospiti come l'anno scorso. Quindi dici tu. D'accordo. Allora, intanto questa manifestazione si articolerà in tre tappe. E quindi appunto dicevamo che il sabato avremo la gara di fondo più lunga, diciamo una 10 chilometri, che si svilupperà dal circolo elioterapico del Lido Ufficiali e arriverà fino alle nostre acque di Villa Marina. E' una 10 chilometri, alla quale parteciperanno molti atleti da tutta Italia, e quest'anno anche più dell'anno passato, circa una cinquantina. E appunto la domenica poi invece avremo le due tappe di fondo sempre al mattino, e quindi sarà una 5 chilometri, che sarà sviluppata sempre da questo come punto di partenza, quindi sempre il nostro circolo elioterapico della Marina Militare, fino al Faro Santa Croce circa, ecco, dal quale l'anno scorso siamo partiti. E quindi insomma siamo contenti di tornare perché sono luoghi che ci ospitano ogni giorno e dove noi viviamo quotidianamente anche per nuotare. Il pomeriggio invece si articolerà l'ultima delle gare, delle tre tappe, e quindi la gara di mezzo fondo che sarà un miglio, e partirà sempre da qui, si articolerà questa volta davanti a questa zona. Ah, arriveremo fino alla Punta, noi la chiamiamo Puntelia, e torneremo. Scusa Antonella, per essere chiari, noi ci troviamo in questo momento alle nostre spalle, vedete il mare, perché ci troviamo proprio a Lido Ufficiali, conosciuto da tutti ad Augusta come Lido Ufficiali, quindi ritorniamo agli ospiti. Chi sono gli ospiti che avremo questo weekend ad Augusta? Benissimo, quest'anno avremo ospiti da tutta Italia, avremo circa 130, quindi abbiamo passato il centinaio di ospiti che verranno da tutta Italia, sicuramente quasi tutte le regioni saranno presenti, e ci sarà anche qualche atleta straniero, per cui la nostra gara, come l'anno scorso, continua ad essere internazionale, e il nostro amico Piotr dalla Polonia, e il nostro rappresentante maggiore, perché comunque sia una persona veramente dinamica, che ci viene sempre a trovare, e questo insomma ci fa onore. E poi, soprattutto, vorrei evidenziare la forte partecipazione di tutti gli atleti augustani, che quotidianamente fanno tanti sacrifici per nuotare, per onorare il nome del nostro paese già da anni. Questa realtà c'è, è bella, e vorrei veramente che continuasse ad andare avanti, perché ci abbiamo messo tanto cuore, anche davanti magari a qualche difficoltà. Oltretutto, essendoci più di 100 ospiti che vengono da tutta Italia e oltre, questa manifestazione sposta un po' anche di economia ad Augusta. Certo, certo. È stato sicuramente un piacere poter coinvolgere gli amici di diversi luoghi, e quindi B&B, alberghi, hotel, perché no, che stanno ospitando molti di questi atleti, ospiteranno già da domani. Questo potrebbe essere un esempio, però anche il fatto che magari qualcuno venga nella nostra terra già giorni prima, e che diventi turista di questa zona, sicuramente servirà e serve, ed è sempre servito, a sollevare un po' l'economia, perché questo credo che si debba fare per amore del proprio paese. Quindi benvengono queste manifestazioni, è importante la presenza ora dei nostri concittadini, quindi dei cittadini di Augusta, sabato mattina, già dalle 8 del mattino, ci sono le porte aperte al lito ufficiali, perché l'ammiraglio Camerini, se non mi sbaglio, ha dato massima disponibilità. Quindi porte aperte per tutti, ingresso gratuito, e quindi vi aspettiamo sabato 6, a partire dalle 8 del mattino, al lito ufficiale, ad Augusta, con Antonella Aprile e tutti gli ospiti delle gare di nuoto nazionali. Tutta la squadra, sì. Sarà un piacere avervi qui dei nostri, e soprattutto grazie, perché questo ci darà la forza anche per fare al meglio, fare di meglio per questa attività. Grazie. Grazie a te Antonella.